Fra i suoi ruoli più celebri la ceca di Sorrento, Aldebaran, i due sergenti, sotto la croce del sud, vacanze in Argentina e maciste nella terra dei ciclopi, molto presente nella prosa radiofonica prima e televisiva poi della Rai dal 1945 in poi. In televisione è stato nel cast dello sceneggiato televisivo del 1962 diretto da Anton Giulio Maiano Una tragedia americana.